Tra arte e artigianato qui a Palazzo De Pasquale a Chieti una mostra dal grande fascino. Arte e artigianato questa volta perché è la prima volta che uniamo le due funzioni delle persone che si adoperano a lavorare in questo senso perché per noi in certe forme di artigianato vediamo l'arte. L'arte è rappresentata in questa mostra in particolare da Walter Zuccarini che ha allestito un angolo particolarissimo proprio dedicato alla sua arte. Arte delle signore del ricamo, arte delle signore che producono con la loro fantasia gioielli di bigiotteria, abitini da bimbi e tutto quello che è in mostra. E non è la prima volta che facciamo questa mostra quindi con la nostra scuola, con la mia scuola, è nato così per gioco e sono rimasta tanto contenta perché comunque hanno imparato bene. Vorrebbe forse oggi riscoprire un po' l'importanza dell'artigianato? È bellissimo, sì, perché il saper fare è bello. È un'idea che prende forma? Sì, forma bellissima. Qui si vede l'aspetto peculiare dell'uomo, noi apparteniamo agli umani, io ci tengo a dare questo significato all'arte e all'artigianato che è tutta la sapienza dell'uomo applicata alle opere che crea manualmente.